E' tutto pronto per l'open day e la notte bianca per il liceo classico video e artistico Mazzara di Sulmona, appuntamento a sabato 23 gennaio a partire dalle ore 16. Il liceo artistico Mazzara potrà mostrare le numerose attività che si svolgono all'interno dei laboratori finalmente ripristinati e perfettamente funzionanti, il laboratorio di architettura e ambiente ricco di sofisticate dotazioni multimediali, i laboratori di rificeria, di scultura, pittura, disegno dal vero, il laboratorio di moda che quest'anno lavora in un progetto importantissimo collaborando con il prestigioso marchio Don De Fühler. Il liceo classico video presenterà la propria offerta formativa che riesce sempre a coniugare tradizione e innovazione e il nuovo corso con il potenziamento dei curriculi di matematica e scienze e con l'introduzione dell'insegnamento del diritto per l'avvio del liceo classico europeo, una novità di quest'anno. Una bella sfida per lo studente che intende investire sul proprio futuro costruendo autostima, metodo e competenze. Quest'anno l'Open Day proseguirà con la Notte Bianca che prevede musica e cineforum con cornetti caldi accompagnati dalle bellissime note della Vico Video Music Band.